E che cosa dicono? Che puoi arrivare a perderti. Perdi tutto. I confini, il senso del tempo. Due corpi possono unirsi a tal punto che non sai più chi è chi e cosa è cosa. E quando la confusione raggiunge quell'intensità, ti sembra di morire. E in un certo senso muori. E ti ritrovi da solo nel tuo corpo, separato. Ma la persona che ami è ancora lì. È un miracolo.